Negli ultimi 10-15 anni la tecnologia ha fatto irruzione in maniera molto prepotente e importante nel nostro distretto torino-aringoiatrico. In particolare il cardine di questa innovazione tecnologica è stata la tecnica endoscopica. Oggi siamo in grado attraverso minuscole telecamere collegate a endoscopi di esplorare anche le parti più profonde e una volta erano più nascoste, quasi inaccessibili, delle nostre vie respiratorie nasali e dei sini paranasali così come della gola, della laringe, delle corde vocali e anche dell'orecchio. Quindi non ci sono più tutte quelle aree grigie diagnostiche in cui molto era relegato all'esperienza del professionista che visitava il paziente e viceversa oggi è una diagnosi sicura, estremamente visibile e vedere la patologia è anche capirla meglio. Attraverso queste tecnologie che sono tutte minimamente invasive e massimamente conservative è possibile accedere alle aree chiave ostruite o disventilate con alterazione del flusso aereo all'interno della cavità respiratoria, diodutti e bambini per ripristinare un fisiologico approccio, un fisiologico ingresso dell'aria e quindi la guarigione di molte patologie infiammatorie che tipicamente erano considerate croniche con i vecchi approcci e di difficile risoluzione. Pensiamo per esempio alle allergie, le allergie sono delle infiammazioni che colpiscono il naso, possono colpire i bronchi, possono colpire diversi distretti dell'organismo. In particolare nelle sedi ottonio-ringoiatriche queste allergie sono in grado di determinare un accumulo di muco, un'ostruzione del corretto flusso aereo all'interno della fossa nasale fino a determinare delle sindrome vere e proprie di apnee notturne con ricadute importanti in termini di rischio cardiovascolare, quindi aumento del rischio di infarto, aumento del rischio di ipertensione o peggio riduzione della perfusione nei distretti nobili delle aree del cervello con rischio di ictus o di episodi di ipoafflusso di sangue con conseguenze molto drammatiche potenzialmente. Tutte queste condizioni sono oggi diagnosticabili come detto nelle precedenti clip con un esame endoscopico molto semplice che si esegue senza bisogno di anestesia, senza alcun rischio, introducendo le sottili telecamere all'interno della via respiratoria del paziente che ha problemi di allergia o che ha problemi di respirazione e siamo in grado con queste metodiche ad alta definizione di identificare in maniera molto precisa le aree siti di ostruzione. Questi siti di ostruzione oggi è possibile risolverli con tecnologie estremamente all'avanguardia e soprattutto minimamente invasive. Sono approcci che non necessitano il posizionamento di tamponi nasali nel periodo post-operatorio, sono delle endoscopie operative con cui siamo in grado di ripristinare un corretto flusso di aria all'interno della cavità nasale o paranasale occlusa dilatando, ripristinando il passaggio nei sottili canalini di comunicazione tra naso e seni paranasali che sono le cavità scavate all'interno del nostro viso, della nostra faccia per ventilare e arricchire anche il suono della nostra voce nell'eloquio e con queste dilatazioni che eseguiamo con dei palloncini, dei minuscoli balloon che abbiamo anche questi importato dall'esperienza emodinamica della radiologia interventistica, questi palloncini sono in grado con una minima invasività, senza traumatismo sul paziente, senza sanguinamenti, senza bisturi, senza sangue, senza punti di sutura di ricanalizzare e recuperare il paziente a una buona fisiologia nasale come se non si fosse mai ammalato. È un pochino come eseguire un reset a 10, a 20 anni precedenti all'approccio endoscopico mini-invasivo del paziente per recuperarlo a una buona qualità della vita.